Per due mesi positiva al Covid-19 è la storia della signora Leonilda Coviello di 72 anni residente a Rocca d'Aspide che lo scorso 28 aprile è stata ricoverata presso il Covid Hospital di Agropoli nel reparto di terapia subintensiva. Non è stato un periodo molto semplice, racconta la nipote alla nostra emittente, mia zia ha scoperto di essere positiva il 19 aprile e da lì sono iniziati ad intensificarsi i sintomi del coronavirus prima con malessere generale, poi la febbre alta, il tremore, la stanchezza e l'affanno. Un quadro clinico che inizialmente era monitorato dall'USCA a domicilio ma che in seguito con il passare dei giorni ha costretto mia zia ad un ricovero urgente. La signora Leonilda ha trascorso circa due mesi nel reparto speciale ma nonostante le difficoltà e la sua depressione è riuscita con l'aiuto di tutto lo staff del Covid Hospital diretto dalla dottoressa Rosa Lampasona a sconfiggere il Covid e il 15 giugno è arrivata la bella notizia della sua negatività. Nonostante la lontananza dai miei cari e la difficile situazione che stavo attraversando grazie all'umiltà dei medici, alla cura e alla loro professionalità sono riuscita a trovare la forza che mi ha spinto ad andare avanti. Mi sono sentita accudita da una famiglia che non era la mia ma era come se lo fosse. Sono le parole sincere scritte con il cuore in una lettera che la signora Leonilda Coviello ha scritto e inviato alla nostra redazione in segno di gratitudine verso tutti i medici e personale infermieristico che l'hanno accudita e risollevata in due mesi di decorso ospedaliero. Ringrazio di vero cuore. Conclude al termine della sua lettera la signora Coviello la dottoressa Rosa Lampasona, sempre disponibile, umile e professionale, il dottor Gianfranco Oglielmi e tutti gli infermieri e personale OSS.